Musica Abbiamo fatto una buona vittoria, un'ottima vittoria contro una squadra che era in salute, una squadra che sta facendo un percorso importante, ha fatto risultati importanti e quindi c'è soddisfazione per quello che abbiamo fatto in campo. I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria a livello di intensità, a livello di spirito di squadra, di gruppo, ci tenevano a fare una grande prestazione, ci tenevamo tutti, così è stato, siamo felici di averlo fatto contro una squadra che presentava credenziali importanti, quindi ci ha rimesso in corsa e per questo le ringrazio per tutto ciò che hanno profuso oggi come impegno e come dedizione, come applicazione e come volontà di fare risultato. Ci siamo ricompattati, abbiamo subito 6-7 minuti dopo l'1-1 che poteva essere di grande sbandamento, dove loro hanno creato anche altre 1-2 occasioni per riportarsi in vantaggio, noi siamo stati bravi a rimanere compatti, stretti, a rubare, ripartire, abbiamo avuto quella forma di squadra vera, quella dedizione nel sapere quello che potevamo fare in quel momento su quello che era la gara, quello che ti diceva la gara, quindi molta maturità, molta voglia di fare risultato e poi siamo stati bravi a non chiuderci mai, a cercare di portarli lontano dall'aria, tranne gli ultimi 10 minuti, ma già stavamo 3-1 e quindi potevamo forse riaprire qualcosa se avessimo ancora cercato di fare questo tipo di atteggiamento, ma sono stati bravissimi perché nell'economia dei 95 minuti abbiamo sbagliato poco.